Domani è il giorno del silenzio elettorale, oggi invece è tempo di chiusura di campagna elettorale, una competizione breve ma intensa, una campagna elettorale in un momento di grande sfiducia nella politica, una tornata difficile e dell'esito inaspettato. Per molti i candidati all'Ars è stata un'esperienza entusiasmante, seppur complicata, come per il candidato Renato Melli dell'Udc. L'esperienza è positivissima, veramente tante persone si sono coinvolte, si sono riappassionate di nuovo alla politica. Nello stesso parere Giorgia Senza del PDL è sceso in campo per la presenza di un candidato che è sempre stato coerente col proprio credo politico. Nonostante tutto questo disgusto per la politica, l'entusiasmo che si sta riscontrando è assolutamente inaspettato. Per Giovanni Mauro di Grande Sud della campagna elettorale invece è stata una campagna di pochi contenuti e troppe passerelle. Intensa purtroppo con pochi contenuti, devo dire che molto si è giocato sul piano dell'immagine, alcuni candidati hanno voluto spendere in cena, in spot, in manifestazioni ludiche, in un momento in cui forse sarebbe stato meglio che ognuno dicesse con concretezza i programmi.